Ciao e benvenuta a questa nuova puntata di Impact Girl dedicata a come smettere di essere la solita brava bambina, cioè come liberarci della sindrome da brava bambina. La sindrome della brava bambina è diventata una sindrome nel momento in cui, soprattutto noi donne chiaramente, abbiamo incamerato nel corso degli anni tutta una serie di condizionamenti che ci hanno portato a sviluppare delle caratteristiche che non sempre ci aiutano a assumerci dei rischi, a scendere in campo, a buttarci, a provare qualcosa di nuovo per timore di apparire imperfette, per timore di piegare le regole, per timore di deludere qualcuno. Impareremo oggi a lasciare andare, almeno cominciare a lasciare andare, questi condizionamenti insieme a Maura Gancitano, filosofa, autrice, scrittrice e fondatrice del progetto Tron, dedicato proprio a diffondere la filosofia e l'importanza della filosofia applicata al quotidiano. 3, 2, 1, si parte! Ma prima di tuffarti in questa nuova puntata ti ricordo di iscriverti al canale YouTube se stai guardando questo video dal mio canale Cecilia Sardeo. Non soltanto iscriviti ma attiva sempre la campanellina e se non l'hai ancora fatto ma ti sei iscritto mi raccomando ricordati perché altrimenti YouTube non ti fa vedere nulla di quello che arriva e sai che ci sono nuovi video sia di Impact Girl che legati ai CC Weekly che escono ogni mese, quindi mi raccomando. Se invece stai guardando questa puntata dal sito bit-academy.it slash podcast ti ricordo di iscriverti alle newsletter per ricevere gratuitamente ogni nuova puntata che arriva e non perdertene nemmeno una e condividi naturalmente nei commenti qui sotto qual è l'idea chiave che ti ha colpito di più di questa puntata e che intendi mettere in pratica perché senza pratica non si va da nessuna parte. Allora Maura il concetto che andiamo ad approfondire, a scomporre e anche un pochino a mettere in discussione oggi è quello della brava bambina che ultimamente è stata definita ultimamente insomma comunque in tempi credo piuttosto recenti addirittura una sindrome per cui quello che sembra quasi un termine a primo impatto positivo qualcosa che sarebbe bene fare improvvisamente diventa addirittura qualcosa che ci affligge e di cui dobbiamo liberarci. In un mondo come questo dove l'empowerment femminile è sempre più forte, dove la donna sta cercando di rivendicare sempre di più nei limiti di quello che è possibile di questi tempi, la propria indipendenza. Spiegaci che diavolo è questa sindrome della della brava bambina. È una dinamica che io di cui io parlo ovviamente dal punto di vista filosofico quindi non dal punto di vista psicologico ma è molto interessante perché è una dinamica che tutte viviamo perché comunque nonostante le cose siano cambiate, tanti aspetti della vita delle donne siano cambiati, comunque viviamo immersi anche solo in delle storie che sono delle storie patriarcali, delle storie in cui le donne vengono portate a comportarsi in un certo modo per cui veniamo educate così. Io di queste storie mi sono occupata di alcune storie per esempio della mitologia greca ma anche delle serie tv perché sono delle figure che poi ci dicono come ci dobbiamo comportare, in particolare ci dicono che dobbiamo essere brave bambine, brave mamme, brave mogli perché se non lo siamo saremo giudicate oppure subiremo delle punizioni. Questa cosa ce la raccontano tantissimo le divinità, le figure della mitologia greca per esempio Elena, Era, Medea. Se andiamo a rivedere queste storie ci rendiamo conto che in realtà non erano originariamente così, c'è stata un'interpretazione. Quello che io vedo è che ancora oggi nonostante tutto le donne hanno delle difficoltà a diventare indipendenti, autonome, a fare delle cose anche molto semplici. Sono tante donne per esempio che hanno paura di viaggiare da sole, di guidare una macchina, di fare delle cose che sono strumenti poi per farne altre, quindi strumenti di autonomia per cui magari non vivono un'esperienza perché quell'esperienza comporterebbe, quell'esperienza le fa trovare di fronte appunto a una difficoltà. Per cui è vero che tante cose sono cambiate ma è vero che tante cose purtroppo sono ancora come erano tante decine di anni fa. Io recentemente ho letto l'autobiografia di Michelle Obama, pensavo di trovare la storia di una donna che nasce subito forte, fa tutto, invece no. Una donna che ha avuto nella vita sempre la vocina che diceva non sei brava abbastanza, fallirai, devi sempre dimostrare qualcosa quindi devi essere una bravissima studentessa, non puoi fallire, non puoi avere momenti di debolezza e questo è tremendamente provoca tanta ansia ed è tremendamente frustrante perché poi ti impedisce di fare quello che desideri, quindi di seguire i tuoi desideri. Tra l'altro mi viene in mente gli esempi che hai fatto sul viaggiare, sul guidare che tra l'altro insomma sono molto veri e credo comune a molte donne, sono quelli forse più plateali e più evidenti, poi ci sono invece delle situazioni un pochino più subdole che sembrano quasi aspetti positivi, sembrano quasi dei pregi, ad esempio il perfezionismo, il fatto di, io ricordo a scuola di essere sempre stata la brava ragazza per eccellenza, quella che doveva assolutamente prendere il voto, ma non perché avessi una pressione dall'esterno e questo, o meglio dalla mia famiglia, che è sempre stata molto molto libera in questo senso, non mi ha mai fatto pressione, ma ero io che mi imponevo di dover leggere un libro senza fare l'orecchio, di dover sottolineare sempre dritto perché altrimenti rovinavo la pagina e questa cosa, spiegaci come poi può diventare un problema alla lunga. Perché in realtà tu ti costringi in un ruolo, quindi aspetti sempre che ci sia un'approvazione esterna rispetto a quello che fai, che tu sia riconosciuta, a volte magari non chiedi delle cose che ti sarebbero dovute, perché la cosa importante sono i complimenti e l'approvazione e non lo status che ottieni, ci sono tante donne per esempio che nell'ambito aziendale non chiedono le promozioni perché tanto fanno le stesse cose che farebbero una volta ottenuta quell'altra qualifica, perché tanto vengono apprezzate, no la promozione va chiesta lo stesso, cioè noi non chiediamo dei trattamenti che invece sono trattamenti a cui abbiamo diritto e spesso non facciamo delle cose che riputiamo troppo ambiziose, perché le donne non devono essere ambiziose, per cui quello che facciamo è diventare perfezioniste e ossessionate spesso da alcune cose che poi conosciamo benissimo, abbiamo paura di esplorare nuovi territori, non perché non ne siamo capaci, anzi, ma perché ci hanno detto che è molto meglio fare così, quindi continuare a percorrere dei territori che conosciamo perfettamente, questa è cultura, quindi non è nella natura delle donne, è nella cultura che ti spinge a fare così, per cui il condizionamento è quello di riconoscere tutte queste cose che facciamo, quindi anche i gesti molto piccoli che compiamo ogni giorno o scelte molto grandi che non abbiamo il coraggio di compiere e cercare di smantellarli, smantellarli piano piano perché si può fare. Ci sono degli altri segnali oltre a quelli che abbiamo detto finora che hai visto come molto comuni, non tanto segnali legati a quello che pensiamo di noi stesse, che magari è qualcosa che non sempre ci accorgiamo di fare perché ci identifichiamo con quello che stiamo pensando, ma segnali come il fatto di appunto non chiedere una promozione o il fatto di non viaggiare da sole o il fatto di non buttarci, ci sono delle situazioni soprattutto nel mondo professionale e imprenditoriale che hai visto proprio bloccare completamente la realizzazione di un sogno, di un progetto? Sì, ho visto una mancanza di dialogo, ho visto anche perché ho lavorato in ambito manageriale appunto come consulenza, formazione, ho visto appunto delle donne che magari scrivevano interamente da sole dei progetti, poi era qualcun altro a presentarli e quando quel qualcun altro magari diceva loro questo progetto è stato scritto interamente da lei, loro facevano un passo indietro, avevano quasi paura di prendersi quel merito. Queste cose sono da osservare perché è vero che ci sono delle donne invece estremamente volitive che non hanno questi problemi, ma in realtà c'è sempre questa cultura alla base. Per cui si tratta proprio di capire dove tutte queste dinamiche toccano noi, a cosa stiamo rinunciando, quindi a quale progetto, a quale desiderio stiamo rinunciando e quanto stiamo aiutando le altre a fare lo stesso. Perché quando una donna riesce a distruggere quello che si chiama soffitto di cristallo e quindi magari dice sì io me la prendo questa promozione, io riesco a raggiungere quel ruolo, devo sempre ricordarsi che ci sono insieme a lei delle altre donne che magari hanno più difficoltà e che dovrebbe aiutare a creare proprio delle condizioni lavorative diverse. In questo senso il dialogo è fondamentale, parlare di tutto questo è fondamentale. E una cosa che hai detto che mi ha colpito in questo momento è stato il fatto che ci sono delle donne che però riescono a reagire a questa situazione in maniera più forte di altre. Ci sono anche le cosiddette uome, non è un termine che ho coniato io, mi è stato detto da un amico e devo dire che mi ha colpito molto, cioè queste donne che reagiscono per opposizione alla sindrome della brava bambina e diventano tutto l'opposto, togliendo in qualche modo anche la, o meglio privandosi di quelle che sono le qualità più belle di una donna e che la rendono sensibile, la rendono materna, la rendono compassionevole e che sono qualità tra l'altro dimostrate come utilissime nella realizzazione di un progetto, nella creazione, nella gestione di un team, ma non solo poi a livello professionale. Come riusciamo a trovare l'equilibrio tra un estremo e l'altro? Allora spesso in quanto donne quando ci si rende conto che c'è questo soffitto di cristallo si cerca di utilizzare le stesse tecniche che utilizzano gli uomini per raggiungere certe posizioni. In realtà dobbiamo renderci conto che il problema è la cultura, quindi se tu alla fine rientri sempre in quel modello culturale che è discriminatorio, che vuole sempre la sopraffazione dell'altro, non stai veramente cambiando le cose, stai ottenendo tu una posizione ma non stai cambiando la struttura anche appunto aziendale, la struttura sociale. Quello che bisogna fare è essere forti, cioè avere quella forza, bisogna rivendicare quella forza, quel coraggio che va sempre di pari passo con la vulnerabilità. C'è un'autrice, forse tu la conosci Brené Brown che io amo moltissimo, che parla di questo, del fatto che il coraggio nasce solo dai punti di debolezza e di vulnerabilità, mentre cercare di raggiungere a tutti i costi e sopraffare gli altri si porta sempre dietro quell'idea di non avere punti deboli. I punti deboli ci sono, vanno messi in evidenza, bisogna riconoscerli e bisogna farlo nell'ottica di una cultura inclusiva, una cultura in cui c'è spazio anche per le altre, perché quello che succede spesso tra donne è poi la competizione, quindi io sono riuscita a raggiungere questo ruolo, ho paura che quello che sono riuscita a raggiungere mi venga tolto, quindi mi accanisco soprattutto verso le altre donne. In realtà oggi dobbiamo creare uno spazio, uno spazio che dia la possibilità a più donne possibile di averlo, questo in tutti gli ambiti lavorativi. Io ricevo dei messaggi quando parlo di questi temi di ogni tipo, ambito universitario, ambito medico, qualsiasi, aeronautica, qualsiasi cosa, perché in ogni campo della nostra vita noi possiamo agire in questo senso, per quanto mi riguarda, nell'ambito anche dei festival, delle conferenze, quindi fare in modo che ci siano più nomi femminili possibile, perché la tendenza che non è spesso dettata da malizio o malafede, ma proprio da uno sguardo, è quello di invitare soprattutto gli uomini, perché siamo portati a considerare le donne meno autorevoli e magari neanche ci pensiamo, non ci viene in mente quel nome, invece bisogna farlo, questo è importante, per cui chiunque organizzi un evento deve sempre fare caso a chi sta invitando, questa cosa è estremamente importante, in tanti paesi nel mondo si sta già diffondendo, quindi gli all men panels sono ormai aboliti, nel senso che non c'è nessuna ragione, per cui in qualsiasi ambito non ci possa essere una donna che parli di un certo tema, perché le donne si occupano come gli uomini di qualsiasi ambito, per cui anche in Italia è importante portare questa consapevolezza. Magari un passo alla volta, te lo dico perché c'è una cosa che mi è piaciuta molto, che prima di registrare, di cui abbiamo parlato prima di registrare, che un po' rappresenta l'approccio che avete a Thlon e in tutto quello che fate, che è la crescita intesa come un piccolo passo alla volta, che va abbastanza fuori da quello che è un po' l'aspettativa comune di quella che io ormai la chiamo industria, perché è diventata quella della crescita personale, veramente un settore commerciale terribile ormai, bisogna veramente entrarci con il lanternino e filtrare con attenzione, ma il pensiero tendente comune insomma che ci viene proposto è, o spacchio vai a casa, buttati senza preparazione, senza piano B, senza piano C, perché tanto ce la puoi fare quando in realtà poi è il modo migliore per bruciacchiarci. Ci spieghi un pochino meglio? Noi facciamo una differenza tra crescita personale e fioritura personale, questo non significa che tutte le persone che parlano di crescita personale dicano cose sbagliate, anzi sono tante persone che hanno un approccio secondo me umano, cioè proprio in linea con i ritmi della persona. Il fatto che la crescita forse è nata non porta da nessuna parte, quello che conta è ascoltare i propri desideri e cercare di capire appunto come questi desideri, che sono quelle foglionine che vogliono uscire dalla terra, poi possono crescere. Per cui ascoltare i propri ritmi, ci sono delle persone che non hanno desideri, non hanno grande ambizione, non hanno desideri di fare chissà quali progetti e allora va benissimo così. Delle persone che invece magari hanno dei desideri enormi e hanno molta paura di ascoltarle e quindi magari rimangono a fare qualcos'altro che non le soddisfa e magari quella cosa cercano di farla crescere forse natamente, però non è la loro. Quindi si tratta di domandarsi, in questo senso la filosofia è fondamentale perché la filosofia è proprio l'arte di farsi delle domande, domandarsi quali sono questi desideri, quali sono i propri ritmi, i propri momenti, qual è il tempo giusto per tirarli fuori. Perché magari prima di riuscire a fare qualcosa che sogniamo ci vogliono tanti anni, magari invece ci vuole poco tempo. Questo dipende dalla persona, non c'è una tecnica che vale per tutti, ci sono delle pratiche, dei processi dentro i quali ci si sente e che possono portare a una vera trasformazione. E in questo senso di nuovo la filosofia diceva queste cose già due millenni e mezzo fa, per cui quello che noi facciamo spesso con Thlon è recuperare alcune tecnologie del sé, come le chiamava Foucault, e quindi delle tecniche molto semplici, proprio delle pratiche semplici che si possono utilizzare e che possono portare a queste trasformazioni, che hanno a che fare con il dialogo, con le domande, con l'osservazione, non con l'idea che debbano portare un risultato immediato, ma con l'idea che portino, che inneschino una trasformazione. E in questo senso la cosa importante è tenere insieme, come dicevi, due cose che noi riprendendo Jung chiamiamo Spirito del Tempo e Spirito del Profondo, cioè quella parte di noi che sta in questo mondo, che utilizza la tecnologia, che utilizza i sistemi di comunicazione, per esempio dei team di lavoro in remoto, quindi tutte queste cose sono molto utili. Tutti i modi anche per divulgare sono importanti, usare i social, la piazza virtuale, non è qualcosa secondo me da demonizzare e denigrare, è importante utilizzarle, però dobbiamo sempre dare nutrimento alla nostra parte profonda, a quello Spirito del Profondo che è la parte dell'essere umano che noi abbiamo proprio, poi non possiamo dimostrare se sia vero o no, però sai è quella cosa che è la sensazione che si è fuori dal tempo, quindi quella parte di te che non puoi dire che viva in quest'anno, ma ha sempre vissuto. Jung faceva una cosa bellissima, cioè viveva sei mesi all'anno in mezzo alle persone, gli altri sei mesi li viveva in una torre che si era costruito e la sua idea era che se fosse entrato un uomo del XVI secolo, entrando lì non doveva vedere niente di strano, quindi no acqua corrente, no energia elettrica, scelte estreme ovviamente, però la cosa interessante era proprio il fatto che lui avesse tanto bisogno durante l'anno di avere questi spazi di ascolto di sé e di silenzio in cui in realtà paradossalmente scriveva le cose più belle, perché poi spesso nella nella società della performance, come la chiamiamo noi, quindi una società estremamente veloce, non trovi il tempo per tirare fuori poi magari quei progetti che senti che sono importanti, quella cosa che senti che il tuo valore è fondamentale, ma non hai proprio tempo per curarla, quindi ci vogliono anche i momenti di pausa, di stallo e non la crescita forse nata 365 giorni all'anno. Anche perché immagino che ascoltarci e trovare il tempo per farlo sia fondamentale per riuscire a capire, anche se poi capire quali sono i propri schemi a volte richiede una vita, a volte non ne basta una, però insomma cominciare a capire, a intuire quali sono alcune tendenze che abbiamo, che tendiamo a seguire ripetutamente, magari delle modalità di pensiero, il come ci parliamo, soprattutto noi donne, soprattutto in relazione alle insicurezze continue, al fatto di temere di fare qualcosa per paura che succeda qualcos'altro. A questo proposito ci condividi uno strumento di fioritura personale che si potrebbe collegare alla sindrome della brava bambina, che ci potrebbe aiutare a cominciare a perlomeno a conoscerla se non a smantellarla. Allora io utilizzo molto la scrittura, scrittura su carta con la penna, che è una cosa che noi non facciamo di solito perché anche quando ci viene in mente qualcosa vogliamo parlare, raccontare noi stesse, lo facciamo comunque spesso sul cellulare o sul computer, invece scrittura su carta perché è molto più simile proprio al modo in cui funziona il nostro cervello, quindi dei tempi più lunghi che permettono di tirare fuori dei pensieri più profondi. Una cosa che si può utilizzare nella scrittura per esempio è la scrittura del proprio diario, della propria giornata, ma non dall'inizio alla fine, quindi dalla mattina alla sera, ma alla rovescia perché è controintuitivo e permette di tirare fuori non l'elenco che siamo portati a fare ormai perché ormai siamo portati a schematizzare, schedulare, elencare tutto, non un elenco ma veramente un racconto della nostra giornata e quindi riconoscere magari delle cose che lì per lì non abbiamo capito che ci hanno toccato, ma che invece ci hanno toccato. Quindi raccontandola al contrario e ci rendiamo conto magari di come un'emozione è stata, si è innescata in una certa ora della giornata e poi è andata montando. Ci sono tante cose verso cui noi ci accaniamo e che in realtà sono solo dei sacchi contro cui lanciamo dei pugni, ma non sono veramente ciò che ci ha fatto scatenare quelle emozioni. Un altro strumento che invece è uno strumento psicologico che mi piace molto perché è molto semplice, si può utilizzare in tutti gli ambiti, viene da una psicologa tedesca che si chiama Gabriele Oettingen che insegna sia ad Hamburgo che a New York, si chiama Wupp. Lei ha scritto un libro, lei ha scritto tanti testi ovviamente accademici, sono 30 anni che fa psicologia clinica sul pensiero positivo per cercare di capire se funzioni veramente perché lei da tedesca si è trasferita a New York visto che il pensiero positivo era un dogma, cominciava a domandarsi ma questo, cioè io non sono tanto convinta, allora ha fatto, non è che, come dire, non si è fermata la sua opinione, ma ha fatto degli esperimenti di psicologia clinica molto interessanti, per esempio sulle persone che dovevano superare un esame o una convalescenza o dimagrire, cioè fare tutta una serie di cose e ha scoperto che in effetti pensare positivo è rischioso perché proprio rilasci un'energia che invece ti serve per osservare l'ostacolo, quindi che cosa veramente c'è da fare per realizzare un desiderio e quindi ha elaborato, ha scritto un libro che noi abbiamo pubblicato come edizione Itlon che si chiama Io non penso positivo, quel libro divulgativo quindi molto semplice e ha elaborato questa tecnica che è una tecnica estremamente elastica perché si può utilizzare in ambito lavorativo, in ambito personale per un sacco di cose, per pianificare un viaggio, per comprare casa, per risolvere un problema come dire appunto in ambito aziendale in tanti ambiti si chiama WUP che sarebbe wish, outcome, obstacle, plan, quindi come prima cosa si parte dal desiderio, quindi qual è il tuo desiderio, che cosa desideri realizzare e già questo spesso è difficile da formulare perché tu hai un'idea, però è difficile descrivere una frase qual è veramente questo desiderio, poi c'è l'outcome, cioè come sarà la tua vita una volta che quel desiderio sarà stato realizzato, cioè una volta che tu avrai comprato casa, come sarà la tua vita, sarà cambiato qualcosa, cosa sarà cambiato e questo è diverso e noi spesso questa distinzione non la facciamo perché in questa distinzione vediamo qual è veramente l'autentica trasformazione, poi c'è l'obstacle che di solito è o il freno oppure qualcosa che non vediamo, cioè noi spesso viviamo questi due opposti o vediamo solo gli ostacoli e quindi non partiamo neanche oppure siamo talmente convinti che le cose andranno bene quindi pensiamo positivo che non vediamo gli ostacoli quindi poi ce li troviamo davanti e non li abbiamo previsti, questo è un esercizio di previsione di gioco in qualche modo, quindi una volta che tu hai elencato gli ostacoli che sono sia ostacoli esteriori che ostacoli interiori, quindi magari io inizio a fare questa cosa ma poi inizio a fare dei video, però poi ho paura delle persone che mi vedranno e quindi questa cosa è una forte resistenza personale. Una volta che ho capito quali sono gli ostacoli, creo un piano, quindi se davvero una volta che ho fatto tutto questo esercizio, che è un esercizio narrativo, non è una cosa estremamente tecnica e arida, ma anzi è qualcosa che ti porta, ti dà modo di raccontare che cosa ti succede, quindi una volta fatto tutto questo, tu crei un piano quindi se ancora sei convinta che comprare il camper per partire per fare tutti gli Stati Uniti on the road ti potrà trasformare proprio la percezione del mondo, allora crea un piano per farlo e quindi comincia a mettere insieme tutti questi aspetti e attraverso questo piano puoi veramente proprio strutturare delle istanze, delle consapevolezze che prima non avevi. quindi è una cosa, io lo dico spesso, è un esercizio che quando io lo spiego sembra buon senso, vabbè ma io lo faccio, poi quando ti metti a farlo e magari ci metti tre quarti d'ora oppure magari lo rifai di sana pianta, ti rendi conto che non lo fai, che abbiamo bisogno di scriverle queste cose, abbiamo bisogno di metterle su carta, abbiamo bisogno di rifletterci e abbiamo spesso bisogno di parlarne anche con qualcun altro, quindi di dialogare con qualcuno che ci permetta di capire anche altre cose che noi non vediamo da soli. quindi una volta che facciamo questo esercizio ci rendiamo conto che c'è la possibilità di realizzare i desideri però bisogna saperlo fare. A questo proposito hai nominato la paura del giudizio degli altri nel rapporto all'esempio dei video ma questa è una paura che quando cominciamo a fiorire e quindi a trasformarci probabilmente a tanaglia tutte perché significa cambiare anche nella nostra modalità di approccio alle relazioni con gli altri. Mi viene in mente il fatto di dire sempre sì, le donne fanno molta fatica a più degli uomini, non è che gli uomini non abbiano questo problema ma sembra una cosa molto femminile il fatto di fare molta fatica a definire i confini. Addirittura ci sono situazioni in cui poi col sorriso accetti qualunque cosa perché sia mai che qualcuno pensi che tu la stai accettando ma non ti va di farla. E quindi come inserisci nel piano WUP la paura che è qualcosa di totalmente irrazionale e che forse è l'ostacolo principale. Eh sì esatto sì di solito è l'ostacolo principale perché ha a che fare è proprio sono tutte quelle pulsioni che noi spesso non riconosciamo. In questo senso dirle è fondamentale quindi ammettere sia anche le proprie parti oscure. Per esempio voglio fare questa cosa perché ho paura di non avere più potere su questa persona quindi io dico sempre di sì ai miei figli al mio compagno ai miei collaboratori perché se non lo faccio non avrò più potere su di loro non avrò più un credito poi da riscuotere verso di loro. Però poi se mi rendo conto che questa cosa mi limita la mia vita cioè la mia vita è talmente affollata che non ho più spazio per me allora intanto scrivere questa paura e riconoscerla ti aiuta anche piano piano perché appunto non è un approccio in cui dal giorno all'altro devi tagliare tutto ma proprio con i tuoi tempi ti aiuta a capire quando certe cose le stai facendo proprio per una relazione con gli altri che non è autentica che ha magari un secondo fine che ha la paura di essere abbandonate per cui si tratta di questo le paure si sono il punto fondamentale e si tratta proprio di ammetterle noi abbiamo molta paura perché ci vergogniamo ci vergogniamo nei confronti di noi stesse prima di tutti di tutto di ammettere le nostre paure queste vanno ammesse perché sono queste paure questi punti deboli queste vulnerabilità che poi ci consentono invece di trasformarci e quindi di immaginare di poter fare qualcosa di diverso questo ovviamente anch'io l'ho vissuto in prima persona in tanti ambiti e quindi ci sono stati per esempio molti anni in cui certe cose non parlavo di certi temi anche perché questo mi avrebbe portata a rivoluzionare anche la mia vita quotidiana la mia vita personale si tratta di questo e si tratta di un equilibrio che cambia di volta in volta noi facciamo una distinzione che a cui io tengo moltissimo tra vocazione e talento il talento è la capacità di fare delle cose a volte noi non lo riconosciamo quindi noi non ci rendiamo conto che il nostro talento è uno ma gli altri magari ce lo dicono allora sicuramente anche tu avrai delle persone che ti dicono tutte le stesse cose notano tutte le stesse cose e magari tu dici no ma io non sono brava a fare questa cosa ma io così mi improvviso e invece no perché quel talento ce l'hai quindi riconoscere i propri talenti è fondamentale però c'è un'altra sensazione che non è uno strumento ma è una sensazione che è quella della vocazione cioè la sensazione di essere pesci nell'acqua di stare nel posto giusto di avere una vita piena ma non ma che ti permette di respirare quindi una vita in cui non ti senti senti che hai anche la possibilità di prenderti del tempo tuo del tempo anche di isolamento che è qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno questa vocazione la sensazione che ti dà lo stare nel percorso della tua vocazione è fondamentale perché spesso il talento da solo ti porta a cercare il successo la visibilità la vocazione no la vocazione ti porta a cercare una vita piena una vita che in cui ti senti in un processo di fioritura e a quel punto collegandolo di nuovo alla sindrome della brava bambina ci aiuta anche a smantellarla piano piano un passo dopo l'altro a riconoscere a diventare donne a riconoscere chi siamo che cosa vogliamo davvero che forse è forse il desiderio di tutti e tutte e anche la risposta più difficile ma più importante da trovare nella nostra vita più di qualunque conto in banca più di delle dimensioni della casa della macchina o dei followers di Instagram perché poi ci mettiamo dentro anche quelli Maura tu hai un libro giusto sulla brava bambina? Sì è un libro che ho scritto con mio marito Andrea con la medici abbiamo scritto per Harper Collins e perché l'abbiamo scritto insieme? Perché di tutte queste cose è importante che comincino a riflettere anche gli uomini soprattutto perché questi condizionamenti toccano anche loro una cosa che abbiamo osservato molto è che gli uomini educati con un certo tipo di mentalità non ascoltano le proprie emozioni non raccontano se stessi hanno paura di raccontarsi quindi anche tra di loro cercano solo di farsi belli di far capire quanti sono forti e potenti invece magari dentro c'è una persona fragile che ha bisogno di raccontare le proprie paure quindi l'abbiamo scritto insieme perché è importante che di questi temi di questi condizionamenti sociali se ne parli insieme ovviamente Andrea anche nelle presentazioni parla soprattutto degli aspetti legati al maschile di cose legate proprio al corpo femminile alla vita femminile parlo più io quindi è anche importante che gli uomini dato che è una cosa che fanno spesso non spieghino le donne alle donne si chiama mensplaining ed è proprio la tendenza a doverti spiegare le cose che in realtà tu sai meglio perché tu sei una donna quindi lo sai tu però di queste cose importante che si occupino anche gli uomini perché in realtà anche loro anche un discorso legato alla leadership la leadership oggi deve essere completamente rivoluzionata quindi in quanto donne possiamo essere pioniere in questo quindi essere leader ma in un modo diverso non è un modo che cerca di sopraffare schiacciare e limitare gli altri ma cerca di creare collaborazione anche gli uomini devono farlo. Ti chiedo una cosa che ho dimenticato di chiederti prima legata al primo esercizio che ci hai proposto cioè quello dello scrivere la nostra giornata a rovescio è una cosa che poi consigli di rileggere o di continuare nel tempo lasciando che sia una sorta di download che faccia il lavoro da solo in qualche modo? Allora ci sono degli esercizi che faccio fare che sono gli esercizi che ti fanno capire subito delle cose che hanno a che fare con la storia della propria vita anche con delle vicende però sono un po' più complicati di solito consiglio questo e infatti ci metto un po' di ore per spiegarli ci sono questo della propria vita io consiglio intanto di tenere un diario quindi di fare questo diario alla rovescia e poi magari dopo un po' di mesi rileggerlo perché altrimenti rischia di esserci l'abolizia interiore che sta lì, l'inquisizione io la chiamo a volte quindi stai lì a cercare di capire che cosa non hai capito e invece intanto scrivi intanto sentiti nel flusso della scrittura che è una cosa importante e il flusso della scrittura che avviene con la scrittura su carta non avviene con la scrittura al computer e poi man mano capisci e spesso lo capisci dopo un po' di mesi che cosa è accaduto che cosa è cambiato quali sono i punti ricorrenti quindi ci sono delle cose che intanto capisci subito delle cose che puoi capire già quando stai scrivendo che ti eri dimenticata quindi proprio affiorano da sole delle altre cose che capisci nel corso del tempo c'è un diario che consiglio in particolare che è il diario di Etil Sum cioè in due versioni la versione da 800 pagine quella un po' più piccola quindi si può scegliere è che è una storia bellissima la sua proprio di una donna che ha fatto un percorso in un momento terribile quindi durante i campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale lei è morta in un campo di concentramento ma è un percorso di fioritura incredibile perché all'inizio è una donna che ha tutta una serie di pulsioni che non riconosce ma cominciando a scriverle e ad ascoltarsi cambia completamente quindi rappresenta la possibilità di cambiare veramente perché noi spesso abbiamo l'idea che sì possiamo fare piccoli cambiamenti ma saremo sempre le stesse se sono così non mi puoi cambiare invece no ci si può trasformare trasformarsi non è snaturarsi non è diventare altre persone ma è fiorire quindi portare a fioritura a far emergere una parte di sé a cui spesso rinunciamo Ma ora a proposito di altre donne quale donna pensi dovrei intervistare dopo di te? Allora mi viene in mente una persona che ha anche un canale YouTube che si chiama Carotilla come nome d'arte ma in realtà è Camilla Mendini che è di Verona ma vive a New York e lei ha creato un suo parla molto di moda sostenibile di come dire sostenibilità in generale no waste e lei ha creato anche una sua linea di abbigliamento io l'apprezzo molto appunto per il modo in cui sta sui social network quindi in una maniera molto equilibrata quindi forte quando serve e morbida quando serve quindi riesce molto bene a mischiare questi elementi ed è anche un bello esempio di imprenditoria femminile grazie mille per lo spunto e grazie mille per questa chiacchierata ma ora è stato veramente molto bello e sono anche molto curiosa di leggere il libro di approfondire il tema e ricordo alle ragazze che sono in ascolto che troverete come sempre sotto questo post se state ascoltando o guardando l'episodio dal sito beats-academy.it slash podcast tutti i minuti o meglio tutta la puntata suddivisa minuto per minuto in maniera tale che potrete scorrere direttamente sul concetto che volete approfondire se dopo aver ascoltato o guardato la puntata vorrete tornare su alcuni aspetti ma ora dove possiamo trovarti se vogliamo continuare a seguirti? mi potete trovare su tlon che è diciamo l'impresa culturale l'associazione il canale che ho creato quindi su facebook come tlon su instagram tlon.it e li faccio attività di divulgazione online su tanti temi quindi parlo continuamente quotidianamente di vari temi di attualità di società di filosofia fantastico grazie ancora per essere stata con noi ciao a tutte ciao questo è tutto per la puntata di oggi spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a beats academy puoi farlo visitando il sito beats-academy.it noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di impact girl ciao 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 ciao